Allora, questa è la domanda. Avete mai letto Napoleone? Ma soprattutto, se lo avete letto, reputate le proiezioni della sua mente necessarie? Carissimi amanti dei fumetti, ben ritrovati per questa nuova video recensione. Parliamo di un trittico inserito all'interno della collana delle storie, un trittico che però riguarda una collana che si è seguita da Bonelli e è stata ben nota a tanti. Napoleone mi sembra che sia stato più o meno oltre una cinquantina di numeri, sia durata come serie, quindi non è che abbia avuto una grande fortuna. Io ne lessi ai suoi tempi quasi una ventina, non di più. Il suo ritorno, devo anticipare, mi ha deliziato, cioè mi ha dato uno spaccato, diversi anfratti di quello che era il Napoleone della precedente serie che apprezzavo. Ma ho subito lanciato una provocazione con la mia introduzione, perché già ai tempi della serie, quando l'essi i primi venti, queste sue proiezioni metafisiche, queste sue proiezioni oniriche che la serie manteneva al fianco della storia, al fianco del protagonista, dei protagonisti, mi ha sempre lasciato un po' così. Cioè, mi ha sempre lasciato con questa domanda, c'è ne per forza bisogno? È un modo sì, magari originale, fantasioso, per dare una dimensione alle inquietudini eventualmente psicologiche del protagonista. Però forse sono fin troppo, come dire, allegoriche, questi personaggi raffigurati in un certo modo, con una voluta stranezza sotto certi aspetti, non ho mai empatizzato con loro, non ci posso fare niente, non mi sono mai entrati nelle corde, ecco qua. Sì, facevano intravedere un lato particolare della personalità di Napoleone, però, oh, se non mi sono entrati nei simpatie, non mi sono entrati, non so che dirvi. E tuttora, quindi, quando li ho rivisti ancora qui, ho goduto della storia, ma le due parti in cui intervenivano magari ci volevano, magari suggerivano, appunto, queste parti di approfondimento psicologico dei personaggi, ma potevano essere affrontate, secondo me, anche senza questo espediente o magari trovando qualche d'uno di migliore. Andiamo, però, al di fuori di questa mia idiosincrasia con questo aspetto, a esaminare che cosa trattano questo trittico e quindi poi passare al giudizio del perché, secondo me, si tratti di un trittico ben riuscito. Il ritorno di Napoleone è piuttosto particolare, ma a suo modo intrigante. Abbiamo, infatti, in tre albi, la commissione tra una mini-continuità che coinvolge il sospetto ritorno del cardinale, la cerno, un amico di Napoleone, e alcuni casi minori in cui Napoleone viene coinvolto dal suo amico Boulet. La prima di queste vede un pericoloso maniaco girarsi per le strade di Ginevra, aggredendo donne e recidendogli l'annulare con la fede dopo averle narcotizzate. Cinque sono le vittime colpite che riescono solo a testimoniare che il feritore vestisse come un prete, fino a quando, però, non ci scappa il morto. E mentre Napoleone sarà intento nell'investigare per capire se il killer sia lo stesso feritore e le motivazioni che lo spingono ad agire, subentrerà il secondo caso, quello di una misteriosa donna che si è fatta l'operazione e di un laboratorio di ricerca per farmaci che ha qualche ombra sui metodi utilizzati per testare questi farmaci. Nel particolare, l'ultimo che pare potrebbe curare alcune malattie collegate alla degenerazione neurale, come il Parkinson o l'Alzheimer, ma altrettanto pare abbia effetti collaterali non da poco ancora nella sua fase di testa. Ma sono proprio questi effetti collaterali ad essere oggetto di interesse, rappresentati da degli effetti allucinogeni molto intriganti per chi commercia in stupefacenti. Ed ecco il motivo per cui l'ultima parte del trittico si trasferirà in Brasile, tra le favelas di Rio e gli yacht ormeggiati sulla Baia. A dare ulteriore spessore, nonché a mantenere ritmata la storia, ci sarà anche il particolare rapporto che si instaurerà tra Allegra, la giovane ragazza che sta maturando sotto l'ala protettiva di Napoleone e del suo hotel, ed un giovane scultore alla ribalta del palcoscenico artistico, ma molto instabile psicologicamente. E questa instabilità si diverserà poi sugli umori di Allegra, che se ne è innamorata, e di conseguenza su di Napoleone, il cui rapporto con lei diventa sempre più intricato. Quindi in questi tre volumi il piacere è proprio anche da come è stata scandita questa storia, dall'ambientazione che ritroviamo Napoleone in questa Ginevra, Napoleone che manda avanti il suo hotel, con tutte le incombenze che ci sono di mezzo, che non può trascurare, pur dando una mano in qualità di investigatore al suo amico, vice ispettore. Però questa quotidianità è interessante, perché ha questi suoi risvolti non solo sulla vita normale di Napoleone, ma anche su Allegra, l'altra grande protagonista di questa storia, il doverla seguire, il doverla come in certi modi proteggerla, il suo modo anche di essere geloso, in qualche modo interviene in modo sempre molto credibile, incalzante. E anche le difficoltà stesse che ha Napoleone nell'interfacciarsi in questo ruolo, che non è di vero e proprio padre, non è di vero e proprio possibile futuro amante, punto interrogativo, perché comunque c'è anche una sorta di retroscena di gelosia in questa storia, in questa Allegra che è diventata, sta diventando donna a suo modo. C'è la gelosia amorosa, ma anche forse del padre vero e proprio, tipica, non in confronti di una figlia, una figlia che si va a mettere nelle mani, nelle mani di colui che appunto Napoleone sa, non riuscirà a renderla felice, non riuscirà perché è riversa, lei assume, risucchia proprio tutti i tormenti psicologici e anche fisici in parte di questo soggetto e nell'aiutarlo li fa suoi. Quindi Napoleone ha, nel dipenarsi della storia, del thrilling che comunque c'è, un aspetto di ansia, di pressione, comunque sempre presente. Per quanto riguarda appunto invece la parte thrilling, si suddivide in un primo volume che appunto, da una parte intrigante, da una parte per come pone qualche colpo di scena, forse non troppo stupefacente, forse anzi un po' tirato a livello di credibilità, ma a parte quello, sì, comunque un caso discretamente interessante. Poi come prosegue, forse nel secondo e terzo capitolo, agganciandosi a un piccolo particolare di questo, la storia prende altri lidi e si fa però tutto sommato via via più interessante, anche perché appunto entrano a gamba tesa altri personaggi intriganti, anche nel modo in cui vengono presentati. Il fatto che ci sia nello sfondo la presenza del cardinale, questo vecchio antagonista, sì, può essere intrigante, come anche no, sia che abbiate letto la storia a suo tempo di Napoleone, sia che non l'abbiate fatto. Quindi comunque il modo anche in cui questi tre albi procedono è davvero, secondo me, ben cadenzato, ben studiato dal punto di vista di come è sceneggiato. Quindi da questo punto di vista va il mio applauso sicuramente a Carlo Ambrosini, che grazie a questa storia fa sicuramente tornare un po' della voglia di Napoleone anche per le atmosfere, tranne, come vi ho detto, quell'aspetto che purtroppo so che fa parte di questo personaggio, ma purtroppo i personaggi allegorici non fanno per me. Però fanno per me le atmosfere di questa Ginevra, di questo Napoleone che utilizza auto ormai desuete, che ha uno stile, un classicismo che forse sono anche un po' tipici di questa classe, che viene riconosciuta anche allo stesso Ambrosini. Ecco, l'appunto che forse vado a fare più che altro da Ambrosini è una certa caratterizzazione, un certo disegno, per l'ennesima volta, ribadisco, a me giunge a dimostrarsi quasi verso il limite dello svogliato nella raffigurazione di certi volti, che in alcuni casi, in alcuni frangenti, raggiunge anche un risultare pienamente soddisfacente. Ma io che sono amato in un tratto più realistico, meno vergato, un po' più grezzamente, così lo apprezzo abbastanza meno. Tant'è appunto che, non dico che ho apprezzato il secondo albo, che è decisamente troppo caricaturale per i miei gusti, troppo poco realistico, anche se anche qui, mi mostro alcune tavole secondo me nettamente più riuscite, non si può dire che in alcune raffigurazioni non ci sia un ottimo sia regia sia raffigurazione dei protagonisti della storia. Però, anche quello non è uno stile fantasmagorico, così come, in fondo, meno camagne, è capace di soddisfarmi appieno, perché fa queste tavole bianco e nero quasi acquarellate, a tratti, che anche qui vengono a mancare quindi di definizione per concedersi maggiormente a un tratto artistico, però ancora la distanza che viene a mancare la definizione di certi volti, non appena si allontanano dall'obiettivo, anche certe rappresentazioni di azione non sono così dettagliate, quindi non posso dire che a livello di disegni io sia estasiato da questo trittico. Fortunatamente, però, c'è stato tanto piacere dal punto di vista della storia e allora in questo caso benvenga il fatto che sia stato incluso in una buona collana della storia perché, insomma, ne mantiene alto lo standard. Ve la consiglio quindi caldamente da questo punto di vista, non so se da questo se vi siete rimasti incuriositi posso giungervi anche a consigliarvi la prima serie. Potreste provare a rintracciare i primissimi albi per vedere se fa per voi però io la mollai proprio perché forse soffrivo certe cose forse la scrittura stessa non rimase così di alto livello per tutta la durata della serie e quindi invece questo si va secondo me un po' più sul sicuro quindi su questa secondo me su questo trittico non sbagliate. Naturalmente se voi l'avete letta attendo il vostro opinione il vostro commento per un confronto qui sotto nei commenti e per tutto il resto noi ci vediamo ai prossimi video se vi iscrivete se li seguirete ciao da Viper Musica 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 Grazie a tutti.